Musica Ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG Noe. Da oltre una settimana vi facciamo il resoconto quotidiano dell'ormai lunga ed esternante trattativa per la cessione della lucchese calcio. Colpi di scena in questo periodo, come sapete, non sono mancati, tanto che ci rimane complicato addentrarci in qualsivoglia previsione. Di certo pare che le prossime ore saranno decisive in un modo o nell'altro. Le ultimissime indiscrezioni prevenutici inducono però ad un cauto ottimismo. Si va verso il closing, così trapela con la cifra che Grassini dovrebbe versare a Morriconi, probabilmente di gran lunga inferiore ai 600 mila euro pattuiti inizialmente. A questo punto non rimane che aspettare con fiducia di incrociare le dita, anche perché ormai siamo a giugno e le scadenze anche tecniche cominciano ad essere incombenti. A proposito di Serie C, si sono giocate le gare di andata dei quarti di finale dei playoff, che porterà poi una sola squadra alla promozione in Serie B. I risultati, Viterbese Alto Adige 2-2, Feralpi Salò Catania 1-1, Reggiana Robursiena 2-1, Cosenza San Benedettese 2-1. Domenica prossima le gare di ritorno a campi naturalmente invertiti. Scendiamo in Serie D, dal Giviborgo al Giviborgo. Il Venturi non è più l'allenatore del Giviborgo perché va all'Aquila-Montevarchi e adesso la società bianco-rosso-azzura ovviamente deve guardarsi intorno. La categoria, la Serie D, garantita anche per il prossimo anno, ma adesso il compito e l'onere, l'onore e la voglia di disputare un altro campionato positivo. Come indubbiamente è stato quello appena trascorso. Quasi un mese è passato dall'ultima gara interna con il San Donato-Tavarnelle e il primo movimento del Giviborgo è stato in uscita. Di poche ore fa infatti la notizia che l'allenatore Simone Venturi va all'Aquila-Montevarchi, dove lunedì sarà ufficialmente presentato. Tra l'altro il direttore sportivo della squadra Valdarnese è quella Rosarini che ben ricordano gli sportivi della Lucchese. Venturi lascia dietro di sé un buon ricordo e ci dicono che il divorzio sia stato all'insegna della cordialità e dei buoni rapporti. Del resto il tecnico di Pistoia ha portato la squadra alla salvezza, onorando la mission per la quale era stato ingaggiato. Ora inevitabilmente si apre il dopo Venturi che dovrebbe e potrebbe avere le sembianze di un tecnico della zona media valle Garfagnana. Ogni riferimento ad allenatori come Francesco Fiori e Edoardo Micchi non è puramente casuale. Il contatto c'è stato, ma da lì a capire se uno dei due ex giallo-blu allenerà il Givi ce ne passa. Naturalmente in questo periodo di nomi se ne fanno tanti, ma l'obiettivo è quello di dare una connotazione più indigena per quello che si potrà alla squadra. Non a caso sarebbe piaciuto e non poco l'eventuale ritorno di Pacifico Fanani, che però è rimasta all'Aglianese. Tuttavia nei prossimi giorni il direttore sportivo Marracci dovrà stringere il cerchio, anche perché il mercato incombe e l'inizio della preparazione a bagni di lucca fissata intorno al 20 luglio pure. Siamo all'Atletica, al Podismo sabato 2 giugno torna a Terrinca la classica gara podistica Trofeo Parco Apuane nata nel lontano 2001 da una stretta collaborazione tra l'ente Parco e il piccolo oridente paese montano dell'Alta Versilia nel comune di Stazzema. La corsa, ricordiamo, è organizzata dalla società bianco-verde del presidente Graziano Poli. La gara podistica da diversi anni è inserita nel ricco calendario del Corri Lunigiana, ma da quest'anno anche nel nuovo circuito podistico della Versilia a primo memoria il Giuliano Giannotti. Il gruppo podistico Parco Alpi Apuane curerà l'aspetto tecnico della competizione che prenderà il via alle ore 16 con la gara giovanile e proseguirà alle 17 con quella assoluta. Anche quest'anno Lucca e il suo territorio sono state protagonisti di grandi imprese sportive che ne rispettano la tradizione e incoraggiano una diffusione sempre maggiore della cultura wellness. Tutti gli sport in tal senso si sono incontrati mercoledì sera alla Ego Wellness Resort di Sant'Alessio. Tra l'altro ci sono stati tanti personaggi, anche amministratori. Qui vediamo il sindaco di Lucca Tambellini, il momento clou della serata, tre premiazioni davvero importanti. Sono stati premiati il professore Enrico Castellacci per 14 anni, medico della nazionale campione del mondo nel 2006 a Berlino. Il professor Castellacci, poi è stata premiata anche la campionessa di pallabolo Nadia Centoni che proprio recentemente ha dato l'addio alla carriera agonistica dopo una lunga e luminosa carriera e un premio andato anche a proposito di pallabolo alla Nottorini-Capannori che ha vinto il campionato di B2 passando in B1 e ha giocato la finale di Coppa Italia. Naturalmente su questa manifestazione dell'Ego Party Sport torneremo nelle prossime edizioni del TG Noi con un ampio servizio. Appuntamento ricco di soddisfazioni per la pugilistica lucchese al Circolo Le Panche di Firenze e Rifredi. Debutto vincente di Lorenzo Garibaldi, Alessio Micheletti centra anche la sua prima vittoria, buon pari di Mauro Massoni mentre Joel Santos che era rientro ha ceduto di misura ai punti sul filo del rasoio. L'ennesima conferma infine di Busch-Kinedu che ha ottenuto la terza vittoria pensata in solo le tre settimane chiudendo ancora una volta per K.O. la Contesa. Siamo ai motori, parliamo volentieri del tredicenne Gioele Lugenti, centauro di Castelnuovo, giovane centauro di Castelnuovo Garfagnana che sta andando molto bene nel campionato toscano di minicross e che è riuscito a mantenere anche la promessa che ci aveva fatto proprio qualche settimana fa qui nei nostri studi nella trasmissione Rombo di Motori. Gioele Lugenti domina Pietraia di Cortone, provincia di Arezzo, la terza prova del campionato toscano di minicross categoria 85 promo, un weekend perfetto per il giovane centauro Garfagnino, miglior tempo nelle qualifiche e vittorioso in entrambe le manche. Un risultato davvero importante per il tredicenne Gioele che gli permette anche di balzare al comando della classifica generale quando siamo a metà del campionato, in totale le prove sono sei. Nel dettaglio le due manche, nella prima scatta subito al comando mantenendo la posizione fino in fondo e senza dare alcuna possibilità ai suoi avversari. Nella seconda, nonostante una partenza sbagliata che lo fa scivolare in ultima posizione, gli basta un giro per riportarsi in testa che mantiene fino al traguardo e al trionfo finale. In sede di commento Gioele ha ribadito di essersi trovato meglio in pista avendola potuta provare il giorno prima, terreno idoneo che gli ha consentito di fare una bella gara e di maturare altra preziosa esperienza. Inoltre ha mantenuto la promessa che ci fece qualche settimana fa, quando fu ospite di Rombo di Motori, e cioè vincere in casa del diretto avversario nella lotta al titolo toscano. E bravo Gioele! Finiamo con il karate, si è svolta strada in Chianti, si è svolto il trofeo Primavera Zubame, vi ha partecipato anche lo Iosekan Viareggio, guidato da Mestre Crealbe Iuri Gasperini. La gara riservata a bambini e ragazzi fino a 16 anni, giovani atleti viareggini, si sono distinti davvero con una serie di eccellenti risultati. Il medagliere strabiliante, pensate, 10 medaglie d'oro, 8 d'argento e 5 di bronzo. Bene, davvero tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi, vi ringrazio per averci seguito fin qui, tra poco la terza ed ultima parte del telegiornale.